La libreria Tomo è nata nel 2010 con uno sguardo rivolto alla saggistica scientifica di cui è un riferimento importante e alla narrativa di ricerca. Anche lo spazio dedicato ai ragazzi è molto ampio, sia dai più piccoli agli adolescenti che sono storicamente più difficili da acchiappare da questo punto di vista. I ragazzi che vengono ad acquistare libri in quella fascia di età spesso accompagnati dai genitori o comunque ancora sovvenzionati tendono a cercare i classici e sono chiaramente in quel caso consigliati dagli insegnanti, non sono scelte di piacere. Mi viene in mente Calvino, Ray Bradbury, un po' di fantascienza storica. Però ci sono dei filoni che stanno prendendo piede e che effettivamente vengono richiesti. Sono saghe di fantascienza e anche quello che noi cerchiamo di consigliare loro sono romanzi di formazione e anche vari titoli legati al mondo dello sport. La letteratura sportiva è un genere apprezzato un po' da tutte le fasce di età. Si presta effettivamente per essere letto in età adolescenziale. Noi abbiamo presentato dei libri, ci crediamo molto, anche perché lo sport è un punto di partenza che permette di trattare temi molto importanti, incredibilmente, non ci si pensa. Però, per esempio, abbiamo presentato quest'estate all'aperto il libro di Daniele Manusia, edito da Sixty Sixth and Second, Daniele De Rossi e l'amore reciproco. Dalla sua presentazione, che si è sviluppata in chiave, diciamo, goliardica, se vogliamo, leggera, in realtà si trovano anche le registrazioni interessanti. Sono venuti fuori temi importanti come l'agonismo, l'impegno, i femminismi, la differenza di trattamento tra uomini e donne. Lo sport crea l'occasione per trattare temi importanti in una chiave con toni abbastanza leggeri da poter raggiungere quella fascia di età, perché effettivamente sono uscite cose interessanti. Uno è Giovinette, edito da Solferino, che è un escursus storico, che racconta di queste giovani calciatrici che sfidarono il duce, come dice il sottotitolo. Un altro, molto carino, che abbiamo anche presentato volentieri ai clienti che sono passati, è Vittorie Imperfette, di Federico Vergari, edito LabDFG, che raccoglie storie di eroi, di atleti, di sabili, che hanno compiuto effettivamente delle imprese straordinarie, che sono un esempio importantissimo. e a leggerle viene voglia di fare.